San Giovanni da Capestrano Nacque nel 1386 a Capestrano in provincia dell'Aquila figlio di un barone tedesco e di una gentildonna abruzzese guerriero, diplomatico e prigioniero di guerra si convertì alla vita religiosa in carcere quando gli apparve in sogno San Francesco Fattosi frate presso il convento di Monteripido dotato di una straordinaria arte oratoria iniziò una vita irrabonda ed eroica dall'Italia alla Francia, dalla Germania all'Ungheria dalla Polonia ai Balcani attraversò l'Europa per servire il Papa ammalatosi gravemente durante la crociata del 1456 morì quell'anno nel convento da lui fondato di Santa Maria di Iloc in Croazia i capellani militari lo hanno scelto come loro patrono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti